Salve a tutti, Domenico Giordano da Giordano Brokerge Est, siamo qui nella rubrica la ricerca dei prodotti, scusate sottofondo, mi ha appena chiamato un mio storico cliente e cerca per il retailer Nero Di Seppia, prodotto non facile da trovare, ma se siete voi dei produttori o conoscete dei produttori interessati al mercato russo, potete contattarmi sotto questo video, arrivederci e Nero Di Seppia per la Russia, arrivederci!